La finale sarà il 7 giugno e la proclamazione del vincitore avverrà direttamente in Honduras. Per tutte le scorse edizioni la vittoria era proclamata in studio a Milano, ma quest'anno non è stato possibile utilizzare lo stesso format. I rientri dall'Hondura si impongono 15 giorni di quarantena obbligatori, motivo per il quale sarebbe impossibile fare una vittoria in studio in Italia. La conduttrice Hilary Blasi sarà in collegamento con l'isola dallo studio milanese e il vincitore verrà proclamato direttamente in videoconferenza. Un finale non di certo entusiasmante, ma necessario per via dell'emergenza Covid. Il ritorno in Italia necessiterà di due settimane, quindi anche le interviste e gli inviti in tv saranno rimandati. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.